Buongiorno a tutti, io sono Benedetta Lucchetti, lavoro per il Teatro Puccini, sono un tecnico di scena e mi occupo sia di macchineria che di allestimento, luci e montaggio scenografie. Sono venuta qui oggi per vedere i nuovi prodotti del Club Yamaha, con un ulteriore interesse verso la parte motociclistica che mi interessa particolarmente a livello personale. Inoltre ho visto i nuovi prodotti che credo che siano molto validi per vari approcci, varie situazioni che possono essere sia nell'ambito dello spettacolo dal vivo, sia per realtà un pochino più ristrette, quali locali o eventi dal vivo che coinvolgono persone anche non del settore. Penso che i nuovi prodotti possono essere utilizzati più facilmente anche da persone che non hanno una preparazione particolare, sia per l'allestimento che per l'uso quotidiano. La giornata è andata molto bene e ritengo che sia importante informare un po' tutti, sia del settore che non in merito a questi prodotti. Ringrazio tantissimo per l'opportunità e vi auguro una buona giornata.